Cosa ci fanno qui questi Pokémon? Ehi, mio team, cattura Pikachu! Caspita, ma tu sei un Meo parlante! Ehi, cosa c'è da meravigliarsi tanto? Meo, il Pokémon Graffi Miao. Durante il giorno dorme moltissimo, mentre di notte diventa attivo e si muove controllando il suo territorio. E quel che non ti ha detto quella scatola parlante è che non sono solo la creme di tutti i Pokémon, ma soprattutto il più carino in assoluto! Evviva! Finalmente abbiamo Pikachu sottotiro! Mai, mai, mai! Ragazzina, lo sai che non dovresti andartene in giro a giocare con le sfere Poké? Potresti anche far del male a qualcuno per sbaglio. In questo bosco non c'è posto per un'altra ladra di Pokémon. Seguiamo Pikachu da così tanto che abbiamo la prelazione! Ma grazie alla tua involontaria guffaggine ora ci hai reso il lavoro molto più semplice! Pikachu! Quelle due simpatiche goterose e supercariche colpiscono solo gli amici più cari. Quindi restituiamogli il favore! Se vai! A me non sembra siano amici! Se vai! Se vai! Se vai! Se vai! Se vai! Piplup! Ok. Piplup! Bollaraggio! È meglio se non ti intrometti! Sentite, a questo Pikachu non piacete! Chiunque voi siate, ok? Sentite, sentite, c'è una voce nell'aria. Parla proprio con me, è molto chiara e veloce. Sta fluttuando nel vento. Sì, al di là delle stelle. E sarà il tuo tormento! Porta il terrore a chiunque la senta. Quando l'ascolti ogni speranza è spetta. Siamo già... E' James! Mio! Il mio sì che è un bel nome! Ogni benefattore uscirà sconfitto e pesto! Siamo il Team Rocket! E lo capirete presto! Pronto a fetturare le cose! Va bene! Mai, mai! Sarà, ma io non vi conosco. Che nervi! Come mai quella mocciosa non ci ha mai sentito nominare? Però magari lei sa dove ci troviamo. Sì, siamo appena fuori da sabbia fine. Nella regione di Sinno, caspita, quanto abbiamo viaggiato. Non c'eravamo mai allontanati così tanto da casa. Ecco, spiegato perché non ci conosce di fa, ma qui non esiste un distaccamento del Team Rocket. Ottimo! Quale migliore occasione per diffondere anche qui il nostro predominio assoluto? Comunque faccio molta fatica a credere che questo Pikachu sia vostro. Per cominciare, come mai non si trova al sicuro dentro la sua Pokéball? Smettila di blatterare o sarai nei guai. Ruveremo il tuo Pokémon, così forse chiuderai la bocca una volta per tutte. Si vai per... Avvolgi Botta! Oh, Pipla! Bene, quel Pokémon azzurro si cattura facilmente. Meschiando l'azzurro con il giallo di Pikachu, otterremo un bel verde come quello dei soldi. Aspetta, Pipla, ora usa il bollaraggio! Bravissimo, stai bene, piccolo. Davvero niente male per una pivella, ma è giunto il momento di dimostrarti perché il Team Rocket è tanto temuto da tutti i bambini della regione di Canto. Dopo averci incontrati, stanno ancora piangendo. Facciamoglielo vedere noi, banda! Bolla, raggio, forza! È stato un vero piacere. Peccato sia finito. Però abbiamo dato un'occhiata. E anche stavolta abbiamo fallito! Grazie! Grazie! Grazie!